Siamo giunti al ultimo venerdì di questo tempo, diciamo, ordinario per continuare, per iniziare tra poco, tra brevissimi giorni, il tempo di preparazione per il Natale, l'Avvento. E la parola continua in questa letteratura apocalittica che non è, io già l'ho detto diverse volte, non è la tragedia, no? Come molte volte alcuni per mettere paura, per fare un annuncio di paura, così quando ci tocca la paura, è la paura più grande che tiene l'uomo, non il cristiano. L'uomo è alla morte, quando trova qualcuno nella debolezza, a fin di vita, con una malattia o con poca speranza di vita eterna, le acchiappano immediatamente, no? Non è l'annuncio. Quando noi leggiamo il Vangelo, anzi abbiamo quattro Vangeli, non mette mai paura. Sempre una parola d'amore, di bellezza. Perché? Perché è il fidanzato che viene a trovare la sua chiesa, e viene a trovare la fidanzata. Ma se ogni volta che la viene a trovare, gli dici, ma che spettinata che sei, stai diventando vecchio, guarda, lavati. E no? Brutto. Vengo al fidanzato e dice, ah, buono. E questo? Che crede di essere? Invece questo è un fidanzato che ci aiuta a guardare la storia e la vita da un'altra dimensione che l'innominevole non vuole che la guardiamo. Cioè, la parola dell'Apocalissi non dà nessuna paura. Anzi, mi raccomando, tornate a leggerla perché è bellissimo questo brano del ventesimo capitolo, e salta un pezzettino, due versetti del ventuno. Perché parla del giudizio, parla della condanna di chi si è rivelato, che si è sovlevato, che si è resistito, no? Anzi, potremmo dire che nell'inganno che molte volte noi viviamo, non ci accorgiamo qual è il vero peccato originale. Qual è il peccato originale? Chi lo ha fatto? Forza? No. Il primo peccato, il primo peccatore è stato del demonio. È stato lui, se no non ci sarebbe dopo la tentazione. Nell'umanità il primo peccatore, sì, è stato. Ma c'è una radice precedente. E il demonio, con i suoi seguaci, che si sono creduti tutti belli, tutti forti, tutti più importanti di Dio, non accettavano essere meno di Dio, si mettono contro. Questo è il primo peccato. E già inizia tutto un po' storto. Ecco perché, dice il santo Tommaso d'Aquino, che pur non essendo, non avendo il peccato originale ad Amadeva, per amore Dio Padre avrebbe lo stesso mandato il suo figlio tra di noi. Bellissimo questo. Anzi, nel preconio pasquale, diciamo, oh beata colpa, no? Beata, grazie. A questa colpa, che ci ha meritò? Un così grande redentore. Oh beata colpa. Guardate che la bellezza, no? E che impressionante questo. Beata colpa. Sapete perché? Perché noi, in questo momento, dove saremmo se non ci fosse stato questo peccato? tutti nudi e nel giardino dell'Eden. Ma non avremmo sperimentato la redenzione. Dio scendeva, prendeva un caffè, parlava, ma niente più. Invece, dice il santo Tommaso d'Aquino, è la teologia cristiana nostra, che non so, noi non torniamo a un paradiso terreno, come alcune spiritualità, testimoni di Giova e roba varie, che non sono cristiani, pensano, cioè, uno già soffre qua, e poi tornerà a un'altra terra materiale, a su. sennò ci porta alla faccia a faccia a vedere le abbiatitudine, faccia a faccia con Dio, vederlo, vivere nel proprio regno di Dio, che è molto di più che vivere nel paradiso. Perché nel paradiso si poteva dire di no. Nella vita eterna non si può dire di no. Nel paradiso terreno hanno poduto scegliere, hanno poduto, perché? Perché tutto era limitato, invece nella vita eterna tutto è infinito. L'amore è infinito, e dopo che te ne vai a guardare un'altra cosa. Invece noi, come qua, tutto è finito, uno prende, che ne so, prende un telefono e già la società dice, no, quello che hai preso già è vecchio, non ti serve. Devi prendere l'altro, più così, più cosà, più cosà. Ecco perché la parola oggi mette un centro, mette il puntino su qualcosa che è importante per noi, a vedere tutto con lo sguardo di Dio. E come lo vede lo sguardo di Dio? Come lo vede un papà, una mamma, particolarmente voi, mamme, papà un po' più freddo, no? Voi mamme, riuscite a vedere nei vostri figli quello che nemmeno i propri figli vedono in se stessi. Quando loro stanno andando, voi già siete andati, tornate, state prendendo il caffè, state pronti. Perché? perché l'amore vi permette di guardare qualcosa dove la persona, l'altro, sta andando. E vi les arrabbio. E perché mi costringe? Ma io so dove stai andando. Ma mamma, io so dove stai andando. Però ognuno deve fare la propria esperienza. Seconda caratteristica che è quella che è del pensiero d'oggi. La mamma, voi mamme e nonne moltiplicata e avete la capacità per guardare sempre il bene nelle sbaglio dei vostri figli. Anche se ti fanno del male perdonate, continuate a servire, continuate a stare vicini, a pregare. E' qualcosa fantastica. E così fa la Chiesa con tutti noi. Ma perché fa la Chiesa con tutti noi così? Perché il Padre nostro è così. A noi tutti i giorni ci guarda e quanto desiderrebbe, lo disse San Paolo, la natura è spettante, cioè sta in attesa ansiosa perché venga il Signore. ma purtroppo il nostro pensiero è sì che venga il Signore ma non oggi, che venga magari tra 40 anni. Dicevo uno beh, adesso quando sono preso la pensione, beh no, adesso non accetto malattie, niente. Stolto, non hai capito niente. Stolto, non hai capito niente di che la bellezza di incontrarsi con il Signore. E' che me voglio godere i nipoti perché ci sono o perché già sono in attesa. E' perché mi voglio godere questo. Ma non hai capito ancora assolutamente niente. La bellezza della vita eterna è molto più bella che l'effimero o limitato affetto che i tuoi figli, nipoti, mariti, mogli ti possano dare. l'amore di Dio è molto più importante che quel conto, che quell'eredità o quella grossa pensione. E' molto più importante. Perciò la parola oggi dice, beh, praticamente ci dice attenzione a non cancellarti del libro della vita. Non è che il libro della vita non sono come questi libri che una volta che sono stampati migliorare non miglioreranno, peggiorare sì. Mangiano dei funghi, l'umidità, strappano, lusso, grasso, tutto quanto. Ma il libro della vita, immaginate questo, un foglio bianco con le lettere che sono in movimento, con disegni, come se fosse un libro digitale con un video, audio, questo è il libro, il libro della vita, dove è un foglio, dove è scritta la nostra vita, quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, quello che abbiamo pensato fare, quello che non potevamo fare e abbiamo deciso non fare, tutto, è una, mi faccio capire, è un libro dinamico, immaginatelo, i bambini direbbero un libro magico, dove stanno le lettere saltellando così, ma non cambia niente, non cambia niente, questo libro, quello che sta scritto, scritto un est, no? Là, e questo libro parla di ognuno di noi. Che senso avrebbe che Dio possa scrivere un libro se dopo chiude il libro e lo butta? E no. Perché Dio è amore e l'innominevole ci vuole mettere questa fissazione di che il giudizio è qualcosa di terrorifico, di che la morte è una punizione e la malattia è una vendetta di Dio. Ecco perché il primo pensiero dei finti cristiani dicono perché a me? Perché nella mia famiglia? perché? L'unica persona che può dire perché o chi la pensa così, già l'ho detto, il finto cristiano è quello che pensa che Dio è avaro come noi. E uno pensa che Dio pensa come noi. Meno male che non è così. Dio guarda con un amore infinito. Ecco perché oggi questo libro dell'Apocalisse a me mi è piaciuto tantissimo. Vente e inizio del ventunesimo capitolo mette quella vittoria dell'innominevole con tutti i suoi sequaci. I suoi sequaci che già sono morti, quelli che sono vivi, purtroppo quelli che sono ancora in qualche famiglia, quelli che verranno perché chi non è da parte del Signore è contro. Chi no fa del bene evita di fare il bene. Facciamo un figlio. Chi no vuole fare un figlio evita fare un figlio. È semplice. Entra nella morte per propria volontà. Certo dentro del marco del matrimonio. Perché? Perché quando non si capisce assolutamente niente la sessualità viene utilizzata fuori del matrimonio e fuori del matrimonio si evita la procreazione. Cioè tutto un linguaggio di questa cultura della morte. il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno. Che bello! Perché la parola di Dio è vita. È vita, è vita, vita in continuazione. Non non si non si perde niente. E l'antifona dava già il dolcetto per questa giornata. Risolivate. Alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. quanti diranno ah finalmente questo marito questa suocera questa persona che mi dà fastidio la se ne va non la non la facciamo morire ancora però cambia del paese cambia o mi cambia nel posto del lavoro no? Perché risolevate alzate il capo guardate il cielo e vedrai come tutto non è una tragedia pur avendo malattie pur mancando il solde non è una tragedia è tutto un'opera la storia più bella che noi potevamo vivere così sia.